Buongiorno, buongiorno con la storia di Thea. Un pomeriggio Thea, in braccio al papà, osserva le foto di quando lui era piccolo. Ci sono le foto a casa dei nonni e le foto dei compleanni. Osservano anche la foto di quando il papà era in prima elementare. Che strano, nella tua classe voi bambini eravate tutti dello stesso colore, dice Thea. Il papà fa un grande sorriso e risponde. Questo perché oggi le culture di tutto il mondo si mescolano sempre di più e le classi sono varie e colorate, proprio come la tua. Il giorno dopo, è mercoledì, e in classe c'è il disegno. Il maestro propone un tema. E il titolo è questo. I colori che amo di più sono... I bambini ci pensano un attimo e poi ognuno prende pastelli, matite e pennarelli. Liù è la prima a cominciare. A me piacciono i colori della natura. Disegnerò l'erba, i fiori, il cielo e gli alberi. Greta riflette un po' e poi annuncia. Io adoro i colori delle bandiere perché sono tutte diverse. La mia preferita è quella del Canada perché in mezzo c'è una foglia rossa. Cesco è preoccupato perché non ha molta fantasia. Preferisce di gran lunga, somme e sottrazioni. In compenso è molto goloso e quindi conclude. I colori più belli per me sono quelli di gomme da masticare, caramelle e pasticcini. Ecco che cosa disegnerò. Marco invece ha le idee chiarissime. Il mio colore preferito è il verde perché è il colore dei dinosauri. Detto questo, tira fuori tutti i verdi che ha. Si capisce che è un colore che ama molto perché è il più consumato. Miriam adora le farfalle e sa già che il suo disegno avrà i colori dell'arcobaleno. Mentre appunta una matita domanda a Thea quali sono i tuoi colori preferiti. Thea non ci pensa due volte e risponde sicura. Quelli della nostra classe! Thea tira fuori dall'astuccio tutti i suoi colori e mettendosi al lavoro spiega. Per prima disegno Liu che viene dalla scena. Ha la pelle molto chiara e i capelli nerissimi. Poi è la volta di Malik. Per il suo viso serve un bel marrone scuro. È nato in Kenya e la sua pelle è come il cioccolato fondente. Greta ha le lentiggini e i capelli color carota, proprio come la sua mamma che è nata in Irlanda. Poco dopo Thea disegna Paola che viene dal Brasile. Il suo visetto è color caffellatte e i suoi capelli annodati in tante simpatiche treccine sono color cacao. Oksana è arrivata dalla Russia quando era ancora un bebè. Per lei Thea ha già pronti un bel rosa pesca per il viso e un giallo chiarissimo per i capelli. Amira che viene dall'Egitto e Yosè che viene dal Perù avranno gli occhi neri come liquirizia. E per il viso? Il marrone chiaro va bene per tutti e due, ma per Yosè ci aggiungo un pochino di rosso. Una volta terminati tutti i disegni, vengono appesi alla parete della classe. Uno dei più votati è quello di Marco. Noto che il verde piace molto, commenta il maestro, o forse sono i dinosauri a piacervi. A sorpresa però, il primo posto lo vince Thea, che si merita un bel applauso da tutta la classe. Un bel applauso lo fa anche il papà di Thea, che dice Brava la mia piccola, battendo le mani Bravissima!